Sì, è già stato. Non ci arriveremo mai a fine, non moriremo qui. Non usciremo mai da questa strada. Per amore sto morendo, amo la vita più che mai. Dove suoniamo stasera? No, fine valdamme. Ti mettiamo in dorsi? Grande! leggera leggera ascolta, che mood ti prenderebbe bene? se vuoi la trap, mettiamo la trap, se vuoi il punk rock, mettiamo il punk rock se vuoi il metal, se vuoi il canto autorato italiano metti un po'... Giacomo vuole ascoltare l'imbiscuit puoi scegliere qualcun altro, dopo sceglierò il Rob siii, l'imbiscuit grasso il postale già mi immagino i 30 euro... dove sei Rob? no Arezzo, prende 30 euro di multa in Dio grazie che verrà pagato chiaramente i soldi, eh? il soundcheck il Bevo già ha 32 mila anni grande Bevo, è il tuo compleanno, va di qualcosa? SEX RUMA LÌ COME SE NON CI FOSSI UN DUDE RUMA LÌ COME SE NON CI FOSSI UN DUDE RUMA LÌ RUMA LÌ ho 28 anni abito a vicino Perugia perchè hai deciso di partecipare a dei club? perchè... boh mi piace conoscere nuove persone e realizzare, hai visto? poi mi definisco da tutti solare, simpatico cosa ti aspetti da questa esperienza? di conoscere tanta bella gente grazie a tutti, noi siamo se volete ci vediamo dopo il barchetto dopo di noi c'è dei ragazzi morti grazie a Domino Cassi Bara Tutti grazie a tutti